Allenamento sul campo breve ma intenso per l'avellino di Massimo Rastelli che punta il crotone seconda forza del campionato. Il tecnico De Lupi ha tenuto i suoi sul terreno verde per circa un'ora prima di rientrare negli spogliatoi, ancora differenziato e terapie per Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio, mentre il giovane Sottini, da poco sbarcato in bianco verde, ha fatto una blanda corsetta intorno al campo. Gestione dei carichi di lavoro per Tito, Marconi, Casarini e Trotta, che probabilmente hanno speso più degli altri nella partita di potenza. A fine allenamento Rastelli ha concesso anche una partitella a metà campo, nella quale, curiosità, ha schierato Agostino Rizzo sull'esterno sinistro. Il tutto in vista di una partita, quella di lunedì, che può essere un banco di prove importante, per la classifica e per il morale dei calciatori, chiamati questi ultimi a dimostrare che la prestazione di domenica non era solo un fuoco di paglia. Lo scoglio è di quell'impervi aggirabile solo con una prestazione oltre le aspettative e con il pubblico delle grandi occasioni. La concorrenza di Resport, che trasmetterà il match, sarà spietata al netto di un clima che si attende non proprio clemente. Ma la passione deve portare tutti allo stadio, soprattutto chi crede che, a questo punto della stagione, con i nuovi acquisti in rosa, l'Avellino possa fare quel passo in più, che riesca a tranquillizzare l'ambiente e fa sperare che domani, finalmente, sarà migliore.